ciao a tutti io sono francesca e oggi comincio così il blog questo qui è il preparato da mangiare per mia figlia qua ci sono i suoi cartini perché lei ce li cava e niente adesso lo doveva mangiare perché è mezzogiorno quindi è ora che mangi allora mia figlia ha mangiato adesso mangio io non so perché ho messo le posate di qua però adesso mangio io mi guardo anche un po di televisione e siamo a posto mangio questi fagioli qua non ho molta fame quindi mangio solo questi eccoci qua oggi è martedì e praticamente stamattina devo portare a mia figlia a fare una visita per fortuna non importante la macchina mi ha lasciato a piedi praticamente la batteria era da sostituire quindi dopo non ci sono andato ovviamente ho chiamato ho aspettato che arrivasse mio babbo e praticamente lui insomma mi ha un attimo dato qualcosa di una batteria con i figli ecco nella batteria così se riuscite andare al meccanico mi ha cambiato la batteria e adesso vado a fare un pedico di spesa ci vediamo dopo ciao eccoci qua ragazzi è mercoledì 24 ho portato la macchina a lavare intanto mi vado a fare un giro al mercato eccoci qua è sempre mercoledì sono le tre e mezza del legge tra l'altro non facciamo quasi le quattro e sto portando mia figlia a fare un picnic all'aperto vado in un parco un po' vicino dall'amico io almeno a sei chilometri e siccome è bello grande ci sono anche delle attività per i neonati così dei percorsi da fare apposto con i neonati e cose così fare preso su due merende così nel caso che non vuole un malato l'acqua e tra l'altro oggi per la prima volta in maglia a mezza manica al body sotto a mezza manica e la maglia a mezza manica sopra il primo concatino che l'ho preso o il secondo comunque vabbè comunque ce l'ho da quasi un annetto in casa quindi adesso non lo rinnovo oggi e anche i caffettini nuovi estivi perché facendo fuori ci sono 25 gradi quindi ecco e noi ci mettiamo dopo ciao eccoci qua oggi è giovedì 25 maggio stavo per dire 25 aprile e adesso devo portare mia figlia a fare una visita sono le 11 e mezza e praticamente questa qui la visita che doveva fare martedì però la macchina è alla batteria da cambiare adesso l'abbiamo cambiata adesso martedì l'ho cambiata quindi ci becchiamo dopo eccoci qua oggi è giovedì pomeriggio e sto ritentando con mio figlio ovviamente voglio riportarla al parco dove dove dovevamo andare ieri però insomma c'era un po di vento così oggi non dovrebbe esserci il vento quindi c'è tira vento ma è calda adesso io ho acceso l'aria condizionata perché se no qua facciamo la sauna e andiamo ok abbiamo fatto il nostro giro al parco io mi sono presa una granita comunque dopo vi metto la foto o prima dopo ve la metto e lei ha fatto merenda soprattutto con il suo latte e biscotto e adesso andiamo a casa perché adesso fa caldo molto caldo quindi vorrei farmi una bella dolce a casa quindi appena arriviamo vado subito alla mani e ci becchiamo dopo c'è mia figlia che sta giocando con la salsa saliva fa così allora qua c'è il mio hamburger vegetariano e i jalapenos come si chiamano ce ne erano cinque uno ma lo sono mangiato io uno se l'ha preso mia mamma qua i nuggets vegetariani e qua abbiamo la salsa e qua c'è l'hamburger del mio amore allora oggi venerdì 26 maggio e chiudo così vlog allora alle 4 più o meno andiamo in campeggio ci andiamo con due macchine quindi anche con la mia finalmente adesso scatto il brodo per mia figlia e niente ci vediamo al prossimo video ciao